Questo è un anno molto importante perché come Consorzio Marche Biologiche siamo presenti all'Expo per tutti i sei mesi e lì chiaramente siamo insieme con altre realtà a livello nazionale e organizziamo incontri, eventi e quindi una grande vetrina internazionale. Volevamo collegare idealmente Expo con il nostro territorio e l'evento Benvenuti nel Bio ci dà l'occasione di parlare di agricoltura biologica nel nostro territorio con il nostro stile proponendo convegni, workshop, conferenze e chiaramente degustando anche prodotti biologici anche con momenti artistici e di festa. Diversi sono gli appuntamenti previsti per queste giornate però ce ne sono alcuni e molto importanti. Sì sicuramente, diciamo che il sabato in modo particolare ci sarà il convegno Bio Europa che è il classico convegno che ogni anno organizziamo come Consorzio Marche Biologiche per fare un po' il punto della situazione del nostro comparto ed è l'occasione per parlare dell'importanza della biodiversità, come quindi valorizzarla e come anche promuoverla perché crediamo che il tema della biodiversità che poi fra l'altro è un tema centrale anche per Expo 2015 sia l'occasione appunto per parlare di agricoltura biologica, per parlare anche di come va promossa nel nostro territorio. L'altro appuntamento importante è alla domenica a mezzogiorno con Luca Mercalli parleremo di cambiamenti climatici e di come purtroppo i cambiamenti climatici stanno incidendo negativamente non solo dal punto di vista della produzione agricola ma anche per la qualità della vita di tutti i cittadini.